Temptation Island, Alessio, ho lasciato io Valeria È stato Alessio Bruno a lasciare Valeria Bigella. La storia tra Alessio Bruno e Valeria Bigella è giunta al capolinea. A dare l'annuncio su Instagram, attraverso una storia, è stato proprio il romano. Era da un po di tempo che non venivano postate foto di coppia su social e ai fan erano sorti numerosi dubbi. Questi sono stati poi chiariti da Bruno, senza specificare né chi sia stato a lasciare chi né il motivo che ha portato a tale decisione. Oggi arriva una risposta da Alessio proprio attraverso una storia di Instagram, dove dichiara di essere stato lui a lasciare Valeria. I motivi, però, rimangono ancora oscuri, Bruno anzi ha affermato che, se vorrà, sarà la sua ex Valeria a spiegare i motivi. Intanto sui social la Bigella non si è esposta in merito alla questione, anzi attualmente si trova a Londra in compagnia di un'amica. Stando alle loro storie di Instagram e alle foto che loro stessi pubblicano sul social, ognuno dei due pare aver ripreso in mano la propria vita. . Le parole di Alessio Bruno su Instagram. Alessio Bruno ha rivelato qualcosa in più sulla fine della sua storia con Valeria Bigella. . Attraverso una Instagram story Bruno ha rivelato, lo lasciate io e il perché, se vorrà, un giorno ve lo dirà lei. . Queste parole, è evidente, sono riferite alla sua ex fidanzata Valeria. . I due stavano insieme da cinque anni e sono andati a convivere da subito. . . Tra loro però non era tutto rose e fiori e per mettere alla prova il loro amore i due hanno deciso di partecipare alla scorsa edizione di Temptation Island. Il problema fondamentalmente era uno, Valeria si sentiva pronta ad costruire una famiglia con Alessio ma questultimo, è apparso nel programma, sembra voler essere un eterno Peter Pan. . . La situazione sembrava essersi sistemata dopo la fine del programma ma, evidentemente, qualcosa non è andata nel verso giusto. . Sarà stato questo il motivo della rottura, definitiva? Tra i due. . Alessio e Valeria attempted in Island. . . Alessio Bruno non si è comportato nel migliore dei modi nei confronti della sua allepoca fidanzata Valeria. . Si è avvicinato molto alla single Carmen, tanto che tra i due mancava solo un bacio. . A questo punto Valeria si è avvicinata al single Paolo attualmente sul trono di uomini e donne ma senza mancare di rispetto ad Alessio. . 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